Da Autoctona 2013 siamo con Innocente Nardi, il presidente del consorzio di tutela Conegliano Valdobiadene che ha appena ritirato un premio di tutto rispetto. Il premio Vinarius come denominazione dell'anno è sicuramente un premio che inorgoglisce tutti i produttori del Conegliano Valdobiadene perché è un riconoscimento alla denominazione del Prosecco Superiore, una denominazione che si trova nelle colline di Treviso dove la pendenza di queste colli è particolarmente elevata e dove è nato il successo del Prosecco. Conegliano Valdobiadene è la terra del Prosecco Superiore di OCG e questo riconoscimento è un riconoscimento che per noi è importante perché apprezza il lavoro di tutela e valorizzazione del Prosecco Superiore che stiamo portando avanti da diversi anni.